Direzione Spagna della Croce Sta bene perché non è freddo per ora, neve bella Grazie Neve bellissima, ghiaccio bello, e la secca, e il naso Adesso andiamo di qua, sulla Croce Siamo freddo per ora, le colleccio è Freddo traverso un po ghiacciatino 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 il po ghiacciatino Allora, là c'è la Corsica, giusto? Abbiamo aggiunto i guane francesi che hai detto che c'è, i pennini francesi, le altre Voi di farina, qui? Oh, oh! No, non è appena, qui? Con qui? qui Grazie a tutti. Sono cazzi, sono cazzi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Poi quando arrivi lì, me lo fai tu a me. Vai con calma, tranquillo. È dura? Ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti.